della Polisportiva Quattrofice di Città, una società nata pochi anni fa. Ogni anno, e questo è il quattordicesimo anno, che ci prendiamo carico di fare il torneo di calcio e quest'anno, anzi, dallo scorso anno non è solo calcio, è anche altri sport. E il quattordicesimo anno significa che non sono quattordici anni che siamo nati, sono quattordici anni che facciamo il torneo, perché prima facevamo attività all'interno di una palestra, eravamo dieci bambini, dopo dieci anni, dodici anni, siamo diventati quasi duecentocinquanta. Quindi è cresciuta in maniera esponenziale questa società grazie al nostro operato, ma soprattutto all'operato degli allenatori e dei genitori che hanno avuto fiducia in noi. Ogni anno facciamo questo torneo per dare un messaggio di serenità. È chiaro che il messaggio...